Ciao Simone, ciao Simone, sono pure io le relazioni, eh? Fiva Simone Archini, sei un grande, ti ho inventato io! Ciao Pupa, ciao Pupa, ciao Pupa, volevo fare complimenti a Simone, sei bravo, sei bravo, sei io, sei io tu qua. Sono Rezzo, sono Rezzo, Gioanotti, Passo e Popoli, gente, oh ragazzi, voglio fare un saluto a Simone, oh, Simone Archini che è veramente forte, veramente forte, Gagliardo. So, give a five, all right, ciao!